Avrà probabilmente preso spunto da qualche film di spionaggio il pensionato sessantenne di casinina di uditore che nel garage di casa creava letali armi da fuoco clandestine penne e torce pistola calibro 22. La complessa indagine denominata appunto operazione spy condotta congiuntamente tra arma dei carabinieri e polizia di stato coordinati dal sostituto procuratore di urbino simonetta catani ha portato nella giornata di ieri all'arresto di tre persone. L'operazione di ieri è stata il coronamento parziale dell'attività che ci ha tenuto impegnati per settimane con attività tecniche e controlli classici che facciamo sul territorio. Per quanto riguarda le tre persone appunto si sono state ristrette, sono agli arresti e stiamo sentendo anche la loro versione per vedere che cosa ci sapranno dire di questa attività illecita. Gli arrestati sono il sessantenne ex metalmeccanico con il soprannome di Mago del Tornio, creatore delle armi nel cui laboratorio sono state trovate 20 penne pistola e tre torce. Suo figlio gestore di un bar della zona trovato in possesso di una delle creazioni della padre celata in una custodia per grappa nel locale ed un camionista di Sant'Angelo in vado che teneva l'arma penna in un taschino di una camicia nel suo armadio di casa. Un lavoro importante per una zona come questa ha anche un risultato direi altrettanto importante. È chiaro che adesso con tutto questo materiale la nostra attività investigativa cercherà di capire l'ambito a cui questo prodotto pericoloso attestato dalla Benelli era destinato quindi ci saranno ulteriori penso sviluppi. Il calibro 22 non deve trarre in inganno dice Silio Bozzi dirigente della mobile di Pesaro. Molti delitti sono stati compiuti con questo calibro. Ad avvalorarlo un test balistico fatto fare appositamente alla Benelli in mattinata che testimonia l'azione delle armi a 5, 10 e 20 metri. Ancora in via di accertamento molti aspetti di questa vicenda ad esempio a chi erano destinate queste armi clandestine e per quali scopi. Il sessantenne aveva una valigetta contenitore con una sorta di campionario espositore dei suoi prodotti artigianali. Se qualcuno di questi esemplari sono stati coinvolti in qualche episodio criminale e ancora che vastità aveva il mercato di questi oggetti il cui valore si attesta intorno ai 300-350 euro come ci dicono gli inquirenti. Per ora in attesa di questi ulteriori sviluppi le accuse ai tre vanno dalla costruzione e detenzione di armi clandestine alla ricettazione di armi, due dei quali restano in carcere mentre per il figlio non sono state prese misure restrittive.